La mia è una candidatura che parte da lontano, è un cammino che è arrivato, un cammino che ho cominciato sin da piccola lavorando nelle camere del lavoro di Naso, ma andando insomma ai nostri giorni. La candidatura è una candidatura convinta, mi è stata proposta dagli amici qua di articolo 1 e di tutto il raggruppamento che fa parte di Liberi Uguali che fa capo a Pietro Grasso. È una candidatura che ho accettato immediatamente senza pensarci un attimo, perché in un momento come questo, in un momento dove la politica ha perso referenti credibili, dove non c'è più fiducia nei politici, allora è il caso che molta gente come me che ha voglia di mettersi in campo e di far capire che ci sono delle persone che vogliono fare, allora questo è il momento, il momento proprio quello difficile in cui la nostra democrazia purtroppo è in pericolo e allora rimbocchiamoci le maniche e ritorniamo a parlare di problemi che riguardano le persone, di problemi del lavoro, di problemi di uno stato sociale che non c'è più, di ragazzi che se ne vanno all'estero perché non hanno più prospettive di rimanere qua, di donne che purtroppo dopo l'arrivo del primo figlio sono costrette a lasciare il lavoro perché non hanno più la possibilità di andare avanti e avere un'economia che li aiuti, soprattutto quando oltre ai bambini hanno in casa anche degli anziani oppure delle persone disabili che veramente sono costrette ad accettare delle situazioni che sono impensabili, ecco, perché lasciate sole e allora proprio in questo momento ritorniamo a fare politica perché solo con la buona politica determinate situazioni vengono affrontate. Lei ha già individuato alcune priorità, il lavoro, l'attenzione alle fasce sociali più deboli ma avete anche individuato le soluzioni, cioè come si può arrivare o comunque a migliorare la qualità della vita delle persone? Sicuramente, il programma di Liberi Uguali mette al primo posto il lavoro. Il lavoro sia dei giovani, dicevo prima, sia delle donne ma anche e soprattutto il lavoro delle piccole e medie imprese che io rappresento, tartassate, tartassate da una tassazione troppo elevata. Dobbiamo rimettere in modo l'economia e come? Riparlando nuovamente di investimenti pubblici. Soltanto ritornando ai vecchi sistemi, purtroppo in questa campagna elettorale non se ne parla, si parla solo dei problemi, aveva ragione lei prima, ma non si parla come risolvere questi problemi. Investimenti pubblici per che cosa? Per ritornare ad avere delle strade percorribili, perché nessuno muoia più sulle nostre strade, per aiutare le persone ad arrivare in poco tempo presso i nostri aeroporti o anche un livello ferroviario a zero. Non è possibile che nel 2018, per andare a Palermo, parlo della nostra zona, ma ci sia tutta la zona nebroidea e tirrenica che rappresentano lo stesso problema, non è possibile che ci siano due binari, uno che va e uno che ritorna. E mancando le infrastrutture, come fanno le aziende ad investire qua? Le aziende infatti delocalizzano, se ne vanno, questo significa perdita di posti di lavoro. Altro che la difesa dei lavoratori, di quelli che il lavoro ce l'hanno, di quelli che non ce l'hanno e di quelli che lo cercano. E soltanto attivando gli investimenti pubblici, soltanto ripensando a come reinvestire nella nostra Italia, possiamo permettere a questi giovani di rimanere in Italia e di non andarsene più all'estero, perché qua gli abbiamo tolto la speranza. La speranza è di avere un futuro. Di questo noi, i politici, ci dobbiamo vergognare effettivamente, di avere tolto la speranza ai nostri giovani. Sono questi argomenti che affronterete anche in uno degli ultimi incontri pubblici, prima delle elezioni del 4 marzo, in compagnia di Guglielmo Epifani, che è candidato al Collegio Plurinominale, giusto? Sì, io le ho affrontate molto velocemente, ma sono qua anche per questo, per invitare i cittadini di Capodorlando, ma anche Denebro, di partecipare all'evento che si terrà presso lo spazio loc della Biblioteca Comunale di Capodorlando alle ore 18 del 28 febbraio, mercoledì 28 febbraio. In conclusione, perché votare libero uguale? Si è parlato molto di voto utile, voto non utile, si è parlato di un voto che potrebbe essere utile per la destra o per il Movimento 5 Stelle, un voto dato a voi. Invece, perché votare libero uguale? Il voto utile non esiste. Il voto utile è quello che secondo me viene dal cuore. Non bisogna lasciarsi prendere dalle statistiche perché non ci credo. Gli italiani sanno benissimo che votare e votare un partito nuovo, un partito come quello di Liberi Uguali, ancora movimento, ma speriamo che diventi un partito anche subito dopo le elezioni perché ci stiamo lavorando, un movimento che mette al primo posto i bisogni delle persone e lo Stato sociale, bisogna votarlo solo per questo.